Si è chiuso con una fumata bianca all'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra le associazioni che rappresentano i risparmiatori azzerati dai crack delle banche, tra questi anche quelli della vecchia Etruria e di la governo. Ad avere la meglio è stata la linea dettata dal ministro dell'economia Giovanni Tria e concordata con Bruxelles a doppio binario. Rimborso diretto per i truffati con redditi medio-bassi e arbitrato nel restante 10% dei casi. È venuto fuori che la legge primaria che istituisce il fondo, il cosiddetto FIR, dovrà essere riscritta. Dovrà seguire quelli che sono i dettami della comunità europea. Verrà inserita una scriminante all'interno privilegiando l'accesso al fondo ovviamente di quelli che sono i soggetti più deboli. Dunque accesso automatico per i risparmiatori con una situazione ISE inferiore a 35.000 euro o un patrimonio mobiliare fino a 100.000. Tutti gli altri casi invece dovranno passare per un controllo arbitrale. L'indennizzo sarà del 30% per gli azionisti e del 95% per gli obbligazionisti subordinati. Noi da sempre abbiamo chiesto il rimborso totale degli obbligazionisti, proprio perché gli obbligazionisti in realtà sono prestatori di denaro alle banche. Sembra che finalmente si arrivi ad un rimborso molto vicino al 100%. Adesso si attendono i decreti attuativi per modificare la legge di bilancio e destinare così un miliardo e mezzo ai ristori. Che presumibilmente la comunità europea avrebbe sollevato queste eccezioni in realtà lo si sapeva e poteva essere fatta prima. Abbiamo perso tempo, quello che noi temiamo è che si perderà ulteriormente tempo.